Basilescu E' stata un'ottima squadra, molto forte e bravi ragazzi. Purtroppo per loro noi ci abbiamo creduto alla partita e abbiamo portato questo punto in giro. Altro che posso dire, partita tosta, noi non siamo abituati all'interno, giochiamo all'esterno, quindi col fiato stavo un po'... Questo punto può cambiare la stagione? Dal punto di vista mentalmente sì, perché abbiamo incontrato una squadra che è qualificata a vincere il campionato, quindi questo punto ci dà fiducia. Frioli, che peccato oggi? E' una occasione persa, purtroppo il secondo tempo siamo un po' cali fisicamente, non siamo più stati capaci a produrre il gioco che facciamo di solito. Purtroppo poi non chiudi le partite, quando si riaprono diventa difficile perché loro prendono coraggio, tu vai un po' in crisi, la stanchezza comincia a farsi sentire. E' peccato, abbiamo buttato una buona occasione, in casa vogliamo fare il nostro fortino, vogliamo fare più punti possibili, però oggi è andata così. Avete pensato di averla vinta fin troppo presto magari? Ma vinta no, però secondo me nel secondo tempo ci è mancata un po' di lucidità nel giro palla, il mister ce l'ha chiesto, poi noi non eravamo più lucidi per uscire fuori palla a piede. Questo ha permesso a loro di prendere coraggio, poi hanno trovato un gol su un errore nostro e da lì la partita un po' è cambiata. La rammarica è che purtroppo non la chiudiamo quando c'è da chiudere le partite.